Eccoci al via con la sesta del convegno, sono anziani sul miglio, sono in sette al via, Ulisse SM, Dario Battistini, Underground Griff Antonio Di Nardo, Talete Demar Giovanni Palanga, Termodinamico Warner Martellini, Ray Robintor, Romeo Gallucci, Tundra Deventi, Giuseppe Lombardo, Tosca del Rio, Davide Angeletti, molto veloce all'esterno, Tundra Deventi, all'attacco di Termodinamico e di Underground Griff, in bocco della curva, Underground rientra a Tundra Deventi, Termodinamico è ripiegato in corda davanti a Ray Robintor, sbaglia Tundra, Underground in vantaggio, poi Termodinamico davanti a Ray Robintor, il passaggio di fronte alle tribune con 400 iniziali in 28 e 2, Underground su Termodinamico, poi Ray Robintor a largo risale, Talete Demar lo anticipa, Ray Robintor, all'esterno anche Ulisse SM, intanto Underground Griff chiude gli 800 iniziali in 44, all'esterno Ray Robintor in corda termodinamico a largo Talete Demar, poi Tosca del Rio con all'esterno Ulisse SM. Il completamento degli 800 in un minuto è un baffo per Underground Griff che affronta il comando all'aretto opposto alle tribune, Ray Robintor all'esterno a ridosso in corda termodinamico, ha sbagliato Tosca del Rio a largo anche Talete Demar, il primo chilometro per Underground Griff sul Piazza dell'1.15, Underground in vantaggio, Ray Robintor a largo in corda termodinamico, poi all'esterno è Talete Demar in bocca della curva conclusiva con Underground in vantaggio, Ray Robintor che è sempre lì a ridosso del leader in corda termodinamico, l'attacco di Ray Robintor che appariglia il battistrada Underground al termine della piegata, se ne sbarazza Ray Robintor in chiara evidenza su Underground Griff, poi termodinamico Talete Demar, Ray Robintor allunga, saluta e se ne va Ray Robintor a vincere nel più facile dei modi, mentre per il secondo ce la fa ancora, ce la fa ancora Underground a salvarsi da Ulisse SM e Talete Demar. 1.58 e mezzo, media intorno all'1.14, forse anche un filo scarsa, la vittoria per Ray Robintor, Ray Robintor, Ray Robintor, Massimo Finetti, Paolino Sepe il proprietario, e la quota di 3.38, il tempo nell'ordine 1.14 scarso, eccolo qua, Ray Robintor che va a vincere facile, facile, ed eccolo Underground che conserva il secondo sull'Iss SM e Talete Demar. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.